di buon auspicio per questa serata e speriamo di buon auspicio per un'Europa futura che sia un'Europa affacciata sul Mediterraneo che si protenda verso le altre sponde come un'arca di pace e non come un arco di guerra. Scusatemi per la regia che non è stata proprio precisa e adesso vi volevo leggere il pezzo che mi ero ripromessa di leggervi prima.